buongiorno ragazzi oggi abbiamo qua il direttore marketing di vella italia professional paolo gialdi e va bene c'è bisogno di presentazione perché avete già visto altre volte andrea firiolo i stylist un salone pazzesco a torino vabbè ciao andrea e ciao paolo come state buongiorno a tutti no molto bene siamo molto contenti di essere qua per parlare oggi di questo questo momento molto importante per i saloni un viaggio attraverso la bellezza bella ci ha costruito proprio una serie tv possiamo dire così di fatto non sarà una serie tv ma andrà sui social una serie di video ma adesso ne parliamo e andiamo proprio a vedere di che cosa si tratta ma come dicevi tu è una vera e propria serie di sette puntate tipo quelle che si possono trovare su netflix no ci siamo ispirati un po da lì ogni puntata di questa serie approfondisce in maniera pratica e simpatica ogni singolo elemento del percorso della cliente dentro ma anche fuori dal salone con l'idea di massimizzare la rivendita e con il coinvolgimento oggi ovviamente insieme a noi del brand ambassador di system professional che andrea figliuoro ma c'è anche un coinvolgimento di un influencer che è in maniera lazzaro che ci aiuta nel raccontare questa storia la serie sai che già iniziata perché iniziata il 14 aprile sui nostri canali social ma anche sui vostri di parrucchierando e avrà una cadenza bisettimanale quindi ogni lunedì mercoledì alle ore 20 andrà in onda infatti io ho chiesto a voi di essere qua per spiegare un attimo perché sennò i ragazzi io li chiamo così si trovano questi video cos'è sta cosa questo perché la rivendita è sottovalutata e purtroppo io dico purtroppo in italia per i saloni è più o meno una media del 10 per cento quindi per quanto riguarda il fatturato che vuol dire che ci sono saloni all'1 per cento e saloni al 21 quelli bravi e purtroppo non potete lasciare la cliente diciamo abbandonata a se stessa non tanto per vendergli aumentare semplicemente il fatturato ma proprio per consigliarvi il prodotto giusto che si sposa perfettamente con quello che ha fatto in salone perché magari comprano anche una maschera buona o qualcos'altro di buono ma non è calibrato sul colore sul trattamento che il parrucchiere vi ha fatto ed è per questo che ho voluto anche qui chi ha le mani in pasta perché magari io e paolo siamo dalla parte della barricata che non abbiamo le mani sulle sulle clienti mentre andrea tutti i giorni ne sente ne vede e ne fa no andrea come va sono assolutamente d'accordo con te sicuramente la rivendita è uno dei pilastri più importanti nei nostri saloni al pari del del taglio quindi la parte styling parte della parte al pari della parte dedicata al colore e al pari anche della parte dedicata al care quindi è importante secondo me puntare molto su questo pilastro e cercare attraverso consulenze personalizzate e attraverso proposte di comunque consigliare i prodotti più adatti ai nostri clienti perché ma perché comunque i clienti hanno bisogno di questi prodotti se non li acquistano da noi li acquistano da qualche altra parte noi siamo i professionisti che magari più di altri riusciamo analizzare bene le esigenze cutanee anche delle lunghezze e riusciamo a consigliarli i prodotti migliori per farci che abbiano i prodotti i capelli più belli in assoluto ecco facciamo un piccolo step indietro no e parlando di chi è stato l'ideatore di questo progetto e soprattutto quali obiettivi si propone ma allora questa serie è stata in realtà ispirata dai saloni stessi no perché la rivendita lo dicevi anche tu prima una grande opportunità per i saloni e come facciamo di solito noi dalla vella cerchiamo sempre di ascoltare quello che ci dicono i nostri saloni no così l'anno scorso abbiamo fatto uno studio con i suoi saloni con più dei cinque addetti quindi con i saloni un po più grandi ma devo dire che le conclusioni che abbiamo avuto si applicano anche sui saloni più piccoli e abbiamo visto che i saloni più performanti nell'ambito della rivendita hanno un'incidenza della rivendita stessa sul fatturato totale del salone che è maggiore del 20 per cento ed è pari al doppio della media nazionale abbiamo visto che questo è legato sostanzialmente a due fattori che i saloni più performanti in questi saloni più di due clienti su dieci escono dal salone con un prodotto che è il doppio rispetto alla media nazionale dove la media nazionale neanche un consumatore o un cliente finale su dieci esce con un prodotto dal salone e i saloni più performanti vendono in media alle clienti almeno due prodotti che è il 50 per cento in più rispetto alla media nazionale questo per parlare di un po di statistica e quindi l'obiettivo che ci siamo posti è quello di far diventare veramente il salone un punto di riferimento o una destinazione per l'acquisto di prodotti oltre che per i servizi quindi l'obiettivo veramente di proporre in maniera pratica e simpatica i saloni una serie di suggerimenti per aumentare la rivendita l'idea è basata sul percorso ideale da far fare alle proprie clienti dentro e fuori il salone ed è stato costruito veramente riapplicando come si dice in inglese le best practice dei saloni più performanti tipo quello di andrea che oggi qui con noi che sicuramente ci ha spiegato e ci andrà anche adesso spiegare un po di trucchetti su quali sono gli elementi fondamentali per portare avanti la rivendita e aumentarla in maniera significativa sì perché è importantissimo capire perché succedono certe cose no e guardando le statistiche con un gestionale o per chi non ce l'ha a carta e penna diciamo così dovrebbero poter ritracciare che cosa succede in salone quel giorno perché si è venduto più di un prodotto piuttosto che un altro e perché la cliente è stata più felice di un'altra no in modo tale da migliorare sempre le performance detto questo no andrea volevo chiederti sei d'accordo che prima dovresti comunque costruire una comunicazione che faccia percepire chiaramente che tu sei l'esperto di quel determinato problema e non un generalista qualsiasi come posso aggiungere il supermercato o il farmacista che ha dentro di tutto di più no ma al di là del tipo e della qualità dei prodotti e quindi in modo da avere una torre un'autorità per indirizzare la cliente verso il prodotto adatto a lei sono d'accordo la comunicazione a volo fondamentale sia all'interno del salone e sia all'esterno del salone all'interno del salone sicuramente attraverso comunque l'esposizione dei prodotti devono essere visibili la cliente quando entra quando esce deve capire che all'interno dei nostri saloni delle nostre strutture c'è la possibilità di acquistare dei prodotti per curare i propri capelli prima cosa è importantissimo è fondamentale anche la parte di comunicazione esterna devo dire che noi personalmente io personalmente ma noi come gruppo investiamo moltissimo sui social quindi instagram e anche facebook e anche tiktok ultimamente lo stiamo utilizzando parecchio e ci aiuta tantissimo perché spesso succede che ci chiede proprio la cliente alcune informazioni su alcuni prodotti che abbiamo magari postato abbiamo magari consigliato quindi è secondo me è fondamentale essere sfruttato bene ci aiuta sicuramente a consigliare un prodotto ad esempio adesso arriva il periodo dei solari e quindi stiamo strutturando ogni due settimane andiamo a fare una sorta di planning di obiettivi in base alla nostra comunicazione in base a cosa vogliamo comunicare e ad esempio adesso arriva il periodo dei solari sarà fondamentale metterli in luce così come è fondamentale inserire anche gli altri servizi su cui puntare i biondi i tagli di tendenza piuttosto che i servizi curativi questo stimola le clienti e le invoglia a venire da noi e ci fanno delle domande queste domande ci aiutano tante volte a fare delle proposte ecco andrea è importante soprattutto comunicare come risolvere un problema no perché spesso la comunicazione sui social ci si focalizza a volte troppo sui risultati bellissimi risultati che voi fate ma la cliente magari vorrebbe sapere ma questo colore pastello poi come faccio a gestirlo me lo posso permettere non tanto il punto di vista economico ma per il mio stile di vita è compatibile oppure sono nera vorrei fare questo ecco questo mi piacerebbe vedere più comunicazione come fai tu con il tuo salone rivolta a hai questo problema si fa così a risolverlo vieni da noi ti spieghiamo come e perché questo è fondamentale un po meno risultati no è più di solito risoluzione verso i problemi poi ovviamente ci vuole il risultato e lo otteniamo con questo prodotto però fa parte della parte due diciamo dello storytelling all'interno del post sia che sia tiktok instagram o facebook o meglio ancora il vostro sito internet ottimo sicuramente la comunicazione esterna e generica la comunicazione più importante quella che avviene attraverso la consulenza quindi all'interno dei nostri saloni che a mio avviso anche la parte più affascinante più bella del nostro mestiere del nostro meraviglioso mestiere perché ci permette qualche modo di chiudere gli occhi e pensare a una persona diversa e questo è unico penso che sia uno dei pochi lavori che ci permette che permette a livello globale di poter di poter fare un discorso del genere quindi di poter intraprendere una consulenza personalizzata e questo ci aiuta tantissimo perché ci permette nel giro di poco tempo quattro cinque minuti di fare delle proposte di capire quali sono le esigenze della nostra cliente e di fare delle proposte mirate anche grazie alla nostra esperienza e alla ricerca che facciamo tutti i giorni quindi la consulenza io potessi fare solo consulenza veramente bisogna anche è divertente anche far la pratica anzi bisogna farla però la consulenza io trovo che sia la parte più divertente più affascinante che colpisce di più la cliente che la stimola tantissimo ti consiglio di prendere appunti per un futuro libro delle consulenze perché ne verrebbero fuori secondo me delle belle no entro la persona quello che ti chiede i suoi sogni le sue aspettative o magari non ha capito bene come funzionano delle cose no perché il problema di oggi è che questi social di fatto in un minuto e mezzo fanno vedere una persona che da un 2 diventa un 10 e poi invece c'è un percorso costruito da voi stilisti che la guidate in tutto per tutto detto questo quanto è importante coinvolgere anche i collaboratori nel discorso della rivendita motivandoli ma soprattutto formandoli perché voi avete la fortuna di avere una persona due ore mediamente anche di più nel salone e c'è il momento di parlare di alcune cose c'è il momento di parlare altre sono anche dovete parlare due ore di prodotto di problemi no cioè ci sono anche argomenti più leggeri però ci sono dei momenti in cui è importante comunicare un determinata diciamo una determinata cosa è vero sono d'accordo e la formazione è fondamentale per quanto riguarda i nostri collaboratori se sono formati sono a motivati e b riescono comunque a consigliare i servizi in questo caso i prodotti più adeguati alle esigenze delle nostre signore dei nostri clienti quindi formazione assolutamente si motivare il più possibile i nostri collaboratori anche perché alla fine una performance un risultato dettato da due fattori da una parte c'è la competenza la conoscenza la formazione dall'altra parte c'è la motivazione se noi sappiamo unire e creare questa sorta di connubio di questi due fattori riusciamo a ottenere un ottimo risultato e questo secondo me è un pochino al segreto ma ecco paolo stavo arrivando da te sei del marketing no cioè hai dato degli strumenti di comunicazione adeguati all'interno del salone perché non è che possiamo lasciare i ragazzi soli a se stessi e la loro inventiva quindi vela che cosa ha costruito per loro diciamo che da questo punto di vista è fondamentale dare spazio rilevanza in salone alla comunicazione di prodotto secondo me si può partire da per esempio quando è disponibile la vetrina tradizionale o anche digitale per attirare i clienti di passaggio specialmente per i saloni che si trovano in zone ad alta opinionabilità poi bisogna prestare particolare attenzione alle esposizioni dei prodotti creare una zona retail dove dare visibilità ai marchi presenti in salone spiegare le varie linee di prodotto disponibili e i determinati prodotti in zone strategiche come per esempio vicino al lavatesta dove mentre si esegue il trattamento si può anche mostrare alla cliente finale il prodotto da usare a casa a volte può essere anche consigliabile farsi aiutare da esperti per assicurare la massima efficacia della comunicazione di prodotto comunque è un elemento fondamentale quindi a seconda di come disegnato il salone bisogna immaginarsi qual è il percorso che fa la cliente quindi la vetrina lavatesta la zona di esposizione veramente fare in modo che il prodotto sia presente e possa essere anche mostrato alla cliente nei momenti critici in cui si racconta questa storia di servizio di prodotto ho letto degli studi che tutta questa generale comunicazione dalla vetrina al percorso interno del cliente vale circa il 30 per cento del fatturato e aziende multinazionali come autogrill o gli stessi supermercati hanno fatto un cavallo di battaglia hanno a questo percorso posizione dei prodotti in un certo posto al momento giusto quindi voi siete andati nella stessa direzione chiaramente replicandolo su un salone esatto cioè mi sento di dire poi andrea lo potrà anche confermare che ovviamente non bisogna bisogna veramente curare nel dettaglio tutti questi tutti questi aspetti no quindi bisogna il salone quindi chi gestisce il salone investa del tempo e magari anche investa gli strumenti di visibilità per per veramente creare questo questa cosa che dici tu no perché questo 30 per cento viene se effettivamente c'è un percorso ragionato di dietro e si investe del tempo su questi strumenti di comunicazione quindi cosa che so che per esempio andrea nel suo salone se ci andate ovviamente è curato in ogni minimo dettaglio anche nella parte di disposizione del prodotto ma dovete fare come la disney no sei uno dei posti dove c'è il costo al metro quadro più alto al mondo per quanto riguarda che loro sono bravi a rivendere prodotti ci dicono che quando uno entra nel loro parco poi non riesce a non spendere e per essere felici poi parliamo sempre questo diciamo la vostra clientela come dice l'era il canavero non dovete vederla come uno scontrino che cammina questo è il concetto cioè tutte le operazioni vengono fatte per renderla felice non per prenderti i soldi per dargli il massimo risultato poi dopo così tornano e a proposito di entrano e tornano purtroppo spesso la rivendita si ferma quando il cliente esce dal salone e si ricomincia quando ricomincia dopo il mese mese e mezzo però in quel lasso di tempo il nulla o magari qualche leggero messaggio sporadico per i più intraprendenti voi cosa avete pensato riguardo a questo ma diciamo che quello che viene in salone è solo una tappa del processo di rivendita è importante accompagnare la cliente finale a casa anche con degli strumenti no quindi mi viene in mente strumenti di campionatura dei prodotti devono essere sempre nella shopper nel sacchetto insieme al prodotto acquistato no perché per esempio se la cliente acquista uno shampoo è buona norma dare sempre il campione del conditioner della maschera se il prodotto ovviamente un prodotto di qualità molto spesso le clienti come andrea potrà confermare conservano la confezione il campioncino e ritornano in salone per fare l'acquisto successivamente oppure si possono usare anche delle brochure con adesso per chi è più attento anche all'impatto ambientale anche utilizzando dei qr code che rimandano delle piattaforme che spiegano il prodotto oppure contattare anche il consumatore a casa con messaggi personalizzati come diceva prima andrea e fare anche diciamo nella maniera giusta un po un seguimento un follow up all'acquisto del prodotto chiedendo chiedendo come come è andata però tutto diciamo il segreto è sicuramente che i saloni abbiano una scheda clienti parlavamo prima anche dell'aspetto del gestionale quindi avere questi dati tenere sempre traccia di quello che il cliente ha fatto e poi dopo le andrea l'ha detto fare anche un uso estensivo dei social media per comunicare il lancio di nuovi prodotti eventi che vengono fatti in salone anche attività promozioni eventi speciali che vengono fatti quindi bisogna veramente pensare come prima parlavamo del percorso all'interno del salone bisogna pensare anche il percorso fuori dal salone accompagnare questo percorso di fuori del salone con degli strumenti che vanno dalla campionatura di prodotto alla parte di social media piuttosto che è anche la semplice telefonata con basandosi sulla scheda del cliente quindi tenendo sempre traccia di quello che è quello che le persone fanno quando vengono in salone sai mi piace moltissimo la buona sana vecchia carta no quindi che di fatto si sposa anche con il campioncino se vogliamo dire perché la persona va a casa apre il suo sacchetto no al si è il campione magari una piccola scheda e in quel momento è lui da solo con il prodotto il suo problema e a tutta l'attenzione perché magari tu lo guardi su un supporto digitale che sicuramente più pratico però magari arriva la mail c'è l'amico che ti guarda e tanto guardi qualcos'altro ma invece di sei proprio attenta poi chiaramente devi darlo a delle persone in target che lì c'è tutta l'esperienza di andrea o comunque della installi della situazione che decide lui a chi dare una cosa o chi darne un'altra che non siate generalisti vi posso permettere perché non a tutte le clienti deve essere dato indiscriminatamente qualsiasi cosa c'è cliente cliente c'è quella che viene una volta ogni 15 giorni ma c'è quella che viene magari una volta ogni due mesi però magari quella che viene una volta ogni due mesi fa il fatturato di quella che viene ogni 15 giorni quindi c'è le dinamiche sono complesse io so che andrea sei un super controllore dei dati no a te piace molto guardare queste cose sì io penso che i dati siano fondamentali perché ci permettono di capire e di ricordarsi tante cose che magari di per sé faremo fatica a ricordarci tante volte ci sono alcuni clienti che sono sorpresi ma come fa ricordarti il colore che mi avevi proposto il taglio che mi hai fatto i prodotti che mi avevi consigliato il servizio curativo in realtà sì la memoria è importante però avere un ausilio un aiuto dal gestionale fa la differenza e ci aiuta a ricordarci tutto ci aiuta a vedere lo storico delle persone se non ci sono io prima persona c'è un'altra persona comunque riesce a ripercorrere il percorso dal nostro cliente che ha fatto le volte prima e a tanti a tanti benefici anche nella gestione dei collaboratori comunque ci permette di capire diciamo qual è il percorso che sta facendo di crescita ogni collaboratore e magari capire i punti di forza e debolezza migliorare i punti di debolezza e magari mantenere forti i loro punti di forza e questo penso che sia molto motivante e fondamentale nella gestione di un'attività come la nostra soprattutto oggi che lavorate il suo appuntamento sai quanta differenza fa bene non te lo devo certo venire dire io che arriva la cliente la signora laura per dire e quando arriva casualmente sul tavolino c'è il suo prodotto preferito o la sua maschera specifica per il colore che andrà a fare o che ha fatto proprio perché dal gestionale siete partiti che si parte da quando c'è l'appuntamento non è che casualmente entri e va vediamo un po cosa proporre quindi un prodotto giusto nel posto giusto e quindi di fatto anche con i vostri collaboratori parlare di queste cose come fate voi e come paolo anche vi ha mandato materiale di marketing riguardo a questo è fondamentale allora il covip ha accelerato in maniera esponenziale no questa cosa della dell'online del digitale no c'è quindi sempre più persone sono connesse questo è forse l'unica cosa positiva o anche negativa anche questo magari sarebbe da valutare perché non abbiamo più una vita però non si può quindi non parlare di e commerce già non si poteva prima non parlarne oggi più che mai quindi certo diciamo che l'e commerce secondo noi è necessario per supportare le vendite del salone no e commerce permette di aumentare la quota di rivendita del salone offrendo alle proprie clienti alla fine un servizio moderno non è detto tu è importante poi sempre disponibile per la sua natura digitale e si ha un assortimento completo di prodotti e di marchi inoltre con e commerce i saloni possono anche acquisire il nome clienti accendere accedere a dati utili per aumentare il traffico del salone ma anche per arricchire la relazione tra il salone e il cliente esistenti tuttavia bisogna considerare che un progetto di commerce richiede delle conoscenze specifiche e parecchie risorse no e per questo che comunque con la bella abbiamo deciso di fare un progetto particolare che abbiamo chiamato maier boutique creando una nuova piattaforma di commerce e consulenza digitale creata dalla bella che promette sempre al centro il parrocchiere quindi maier boutique è una piattaforma di commerce che permette le clienti di finale di acquisire di acquistare i prodotti con l'aiuto il supporto e la consulenza dei parrocchieri dei professionisti della quindi ci sono diciamo così parecchi buoni motivi per i saloni per diciamo così per considerare un progetto come come questo ma concentrandoci sui principali diciamo che maier boutique è un'opportunità per accedere al mondo delle rivendite online avendo garantendosi anche delle delle royalties per ogni prodotto venduto sulla piattaforma e senza diciamo avere costi aggiuntivi perché appunto gestire come dicevo prima un progetto di commerce è sempre una cosa complessa quindi per noi era importante come come azienda fornire questo supporto sfruttando appunto anche la diciamo così le conoscenze che abbiamo maturato ultimamente su questo settore è un'ottima palestra soprattutto per iniziare ma poi perché no anche in mantenerla in futuro perché si sottovaluta spesso non lo pensa prendo le mie referenze le metto su internet e le vendo non funziona così ragazzi dovete supportare il progetto economicamente ma anche con tempo e professionisti fare un business plan una cosa complicata e quindi affidarsi all'azienda che tra l'altro vi riconosce anche delle royalties quindi pensa tutto lei della spedizione al magazzino anche alle proposte in generale è un'ottima cosa poi nel senso se un domani la cosa prende proprio piede potete valutare costi e quanto altro per implementarla sicuramente poi magari anche la stessa azienda vi darà delle indicazioni su come farvelo per conto vostro una volta che avete capito come funziona tu andrea come invece voi siete abili vaccinati sull'e-commerce ho visto come sta andando allora diciamo che abbiamo utilizzato molto maia boutique soprattutto nel periodo di zona rossa purtroppo a torino in piemonte siamo rimasti chiusi quattro settimane questa è la prima settimana che abbiamo riaperto se vedete le occhiaie dopo un mese per quello l'ho sfruttata molto perché avevo la possibilità di inviare prodotti in maniera facile veloce in tutta italia quindi è stato comodo sicuramente la sfrutterò anche adesso soprattutto per quelle clienti magari più lontane che magari vivono fuori torino e non riescono magari a venire apposta a prendere il prodotto anche se a me piace molto la consulenza live e mi piace molto dare in mano il prodotto parli sentire la profumazione la consistenza e tutta anche quella parte un po più emozionale che secondo me la cliente si aspetta vuole e gli piace apprezza molto quindi sì ma il boutique ma sia anche la rivendita tradizionale a cui sono molto molto legato il one to one fondamentalmente no anche perché sai esattamente la storia della cliente e sai consigliare il meglio per lei qua dovete coinvolgere i vostri collaboratori proprio al cento per cento delle persone parlo in salone perché spesso sono un po persi li vedo vedo che vagano senza una meta si preoccupano di lavare colorare ma si preoccupano meno di consigliare la cosa corretta cioè parlando un po superficialmente di qualche cosa invece a volte basta semplicemente raccontare i benefici di un prodotto e poi sarà la cliente stessa a chiederti perché non me lo dai adesso la formazione bisogna formare e motivare il più possibile lo staff se ci sono questi due elementi veramente si ottengono degli ottimi risultati ne sono sicuro formazione e motivazione e motivazione parole chiave soprattutto in tema di rivendita ok allora abbiamo ripreso no chiudiamo siamo in chiusura però voglio parlare un attimo con te come sta andando è ancora 23 dicembre come la volta scorsa ci sono questi 24 24 devo dire che meno male nel senso che poi dopo un mese io speravo che andasse come sta andando quindi tanti clienti che hanno bisogno di comunque migliorare il proprio aspetto di certezze di diverse belle è chiaro che bisogna abbiamo cercato di abbiamo aperto già lunedì appena possibile abbiamo aperto addirittura prima al mattino e abbiamo creato anche degli orari un po più lunghi la sera per consentire anche coloro che non riescono durante il giorno a venire magari la sera chiaramente sabato aperti l'obiettivo è riuscire a soddisfare più clienti possibile ma nello stesso tempo non creare troppi assembramenti perché comunque è giusto un periodo che è rischioso prima cosa e la cliente lo apprezza lo apprezza essere in un posto dove non si non ci sono rischi ma è tutto diciamo gestito nella maniera più giusta quindi sanificazione quindi comunque rispetto di questo periodo se vogliamo noi diciamo sempre su parrucchierando parrucchiero ormai è equivalente alla sala operatoria ragazzi c'è avete sicuramente la certezza di un posto sicuro credo che sia forse il primo esercito commerciale al mondo per quanto riguarda pulizia sanificazione quant'altro nessuno è uguale come tutte ci sono neanche i centri estetici mi può venire in mente in questo momento per gli altri si lotta solo per il secondo posto parrucchiere posto più sicuro al mondo quando io andavo a fare interviste imparrucchierando on the road l'anno scorso sai che sono andato da trapani fino a in sicilia fino a trieste quindi tutta l'italia ho fatto ho sempre visto persone davvero professionale attente alla sicurezza quindi facevano sempre una cosa in più ma in meno cioè se il protocollo richiedeva da 1 a 10 voi eravate a 11 12 a seconda di quanto il proprietario era diciamo maniacale su quella cosa però mai sotto livello minimo richiesto sette video abbiamo visto il primo in questi giorni così le persone capiranno il perché di questa cosa e ragazzi non sottovalutateli perché a volte sì lo so già lo faccio e poi si scopre che non lo fai perché molte cose quando vai a scuola anche se questa la so quando io andavo a scuola la so la so poi in interrogazione e non la sapevo però ero convinto di saperla quindi io vi consiglio di guardarli attentamente carta e penna perché prenderete dei dei bei gli spunti e tra l'altro si ripercuoteranno positivamente sul vostro fatturato e poi potete anche personalizzarlo come volete voi perché a seconda del salone loro vi danno una linea poi voi ci dovete mettere la vostra firma ragazzi su questa cosa però già avere sette tutorial veri e proprio sette corsi di fatto è davvero tanta roba come diciamo noi non possiamo che ringraziare bella paolo e andrea che intanto ci ha messo anche la faccia in questi video giusto esatto esatto no infatti io volevo ringraziare tutti anche il parrucchierando per averci anche dato l'occasione di parlare di questo di questa serie e quindi vi aspettiamo tutti per per vederla e per sperando di avervi dato qualche spunto interessante per aumentare questa benedetta revenida che è molto importante va bene noi raccoglieremo i feedback e nel caso verrò a chiedervene un'altra su un'altra cosa più specifica tanto facciamo questa ok va bene va bene grazie a tutti sì è un abbraccio grande a tutta la mia splendida categoria assolutamente e buon lavoro ciao paolo ciao ciao grazie